Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippa Riu! Oggi siamo qui per censirvi due bustine delle Hello Kitty Giramondo! Ce le avete chieste in tanti e in particolare ce le hanno chieste Sara Fire, Mattia Domenico Laiolo, ok in due! Quindi vi ringraziamo per il vostro consiglio e vi mandiamo un grosso bacio! Bravo, quindi ecco qui le due bustine, guardiamone una, ok, allora qua c'è Hello Kitty bellissima, con sotto il mondo, io da quando ero piccolina mi piaceva tantissimo Hello Kitty! Vabbè, poi vabbè posso sperare anche io, la bustina quindi c'è bianca, lo sfondo bianco così può! Bravo, con i può rosa, poi qua c'è scritto Hello Kitty su sfondo rosa, poi... Tutto rosa dietro! Tutto rosa, ed è la D-Ramix! E poi utilizzare i rosa D-Ramix non si può dire! Bravo, e il prezzo è 2,50€! Allora, qua c'è scritto, la serie è completa e composta da 8 Hello Kitty giro a mondo, ogni bustina contiene un magazine più un Hello Kitty 3D! Ok, quindi Pippo apri! Va, 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 questo me lo devo fare, anzi va, aspetta che devo fare scendere il booklet perché non voglio! Sì, prima il booklet, non far vedere il personaggio! No, lo sciavallando! Ok, allora, prima il booklet, non far vedere? Ok, quindi devo sempre togliere le cose che troviamo! Ok, allora, che bello quel booklet, questo booklet, c'è scritto D-Ramix e Luna, poi c'è la stessa immagine della bustina! Aspetta Pippo, non aprire perché dobbiamo farla vedere! Allora, viaggio con Hello Kitty, poi c'è l'indice, Europa, viaggiare in Germania, viaggiare in Spagna, in Grecia, che bello! Quindi c'è scritto, il titoletto è viaggiare in, e poi c'è uno stato europeo con i più importanti monumenti di quello stato, quindi bellissimo! Hello Kitty giro a mondo! Ah, ok, quindi si trova un Hello Kitty, naturalmente 3D, vestita in un certo modo a seconda del paese, ad esempio USA, vestita così come la bandiera americana, Poi Eschimese, quindi tutta incappucciata, Cowgirl, quindi con... proprio visita come un cowboy, e poi Indiana d'America, bellissima! Primi la stilina sul pancino e scopri come sarà la tua giornata! Ah, sì, io queste qui ce le avevo quando ero piccolina, vero Pippo? Ti pensi che avevo quelle che giravano la testa? Sì, bisogna schiacciare la stilina e poi girare la testa, sono tutte queste qua, mi pare che io avevo già questa qui marrone, una del genere, Ok, ma sai, sui tutte le tipologie di Hello Kitty, viaggiare in Cina, in Africa, quindi anche altri continenti, America, Australia, bellissima l'Australia! Guarda che faccio te! Ok, vediamo un po' quello che abbiamo trovato, aspettate, che bella questa, è bellissima, vero Pippo? Sì! Allora, vediamo un attimino, quindi, qual è, cercala, naturalmente adesso si gira la stellina, ed esce un uomo, ad esempio arrabbiata, felice, arrabbiata, Vale, dove ci sono i personaggi? Questa qui è il mio preferito, con gli occhietti, con tutte le sopracciglia, così, bellissima, e poi anche un portachiavi, oppure l'ho potuto appendere, come esempio, noi lo facciamo all'armadio, alla porta, della nostra camera, bellissima, quindi è questo qua, bellissimo, e sarebbe Hello Kitty, olandesina, che bella, fantastico! Ma va, lasciamo il booklet del giapetto? Sì, apriamo la seconda, speriamo, naturalmente, di non trovare un doppione. Scusate, mi ha preso un caos! Appunto, non mi fa... Io spero di trovare... Allora, guardiamoli insieme. Io spero di trovare Hello Kitty Hawaiian, perché è bellissima, oppure... Ce ne sono altri? Qua dietro? No? Allora, avanti. Quindi ho quella hawaiana, oppure la Cowgirl, che è bellissima. Anche... No, no, le schimese, stavo scherzando, le schimese. Voglio troppo... Hello Kitty schimese. Oh, mamma! Hello Kitty volata! L'hai ben trovato? No. L'hai ben trovato? Ah, la Cowboy! Bellissima! Cioè, Cowgirl, in teoria. Bellissima! Ti piace, Pippo? Secondo te quale è più bella, questa o l'altra? Questa, certo! Questa quale? Questa qui, vero? Vabbè, voglio... Vedete? Vai, cambia la faccina. Bellissimo! Veramente fantastica. Naturalmente le faccine sono sempre le stesse. E poi si può di nuovo appendere. Bellissimo perché ha... È proprio come un cowboy. Ha il cappellino, la solita giacchetta. Bellissima, veramente. Ve le consigliamo tantissimo. Ecco qui le nostre due Hello Kitty, andiamo a fare subito il bagno. Sì, dopo faremo il bagno, ok? Quindi ecco qui le nostre due Hello Kitty, fantastiche. Ma la mia profita è questa. Ah, no, invece la mia... Sì, no, veramente, sono tutte e due bellissime, non so scegliere. Comunque, nella puntata che avete visto, quella speciale 2500 iscritti, dove abbiamo scartato gli regali, quindi se non l'avete vista andatelo a vedere, vi lasceremo il link nell'info box. Vi abbiamo detto che era la nostra prima puntata in cui vi recensivamo un giocattolo. E noi, a proposito di Hello Kitty, abbiamo una casa di Hello Kitty, bellissima, tutta attrezzata. Quindi se volete il video di quella casa, scrivetecelo nei commenti, così noi vi faremo un bellissimo video. E anche se comunque non ve la scartiamo, comunque è come se fosse nuova, bellissima. Quindi se volete questo video, scrivetecelo nei commenti e noi ve lo facciamo. Ve lo faremo volentieri. Ma io ora sono sciolto. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi iscritti, non sto canale. Non ti attivano con le vostre amiche, lasciateci un commento bomba. Bravo Pippa, e quindi saluti da Tina e... Pippa e Dio ce l'ho così. Ciao! Ecco tutto è Hello Kitty. Ciao! 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 Grazie a tutti.